Va ora in onda. Emigrazione in pillole. Definizioni del dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo. L'italo-americano. L'italo-americano è stato fondato nel 1908 dal fiorentino Gabriello Spini per informare, unire e sostenere la comunità italiana di Los Angeles. Nel 1971 la proprietà è passata ai padri di San Carlo, Scalabriniani, e il giornale si è affermato tra le testate in lingua italiana all'estero più seguite. Tanto che nel 1980 ha rilevato l'Eco d'Italia di San Francisco, diventando l'unico giornale italiano in California. Dal 1986 esce in formato tabloid e a partire dal 2004 l'italo-americano è divenuto proprietà della Italo-American Foundation. Con la versione online, l'italo-americano, il sito di riferimento è www.italoamericano.com, ha continuato la sua missione di promozione e tutela del patrimonio culturale italiano, con particolare attenzione alle esigenze delle nuove generazioni e agli strumenti comunicativi da queste preferiti. Definizione di Tony Saracino Avete ascoltato Emigrazione in pillole Definizioni dal dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo